Allora, Dr. Sam Osmanagic, famoso per avere scoperto le grandi piramidi di Bosnia. È una montagna? No, non è una montagna, è una piramide. Se questo è una piramide, grande come una montagna, pone un grandissimo interrogativo. È una montagna o è una piramide? La piramide Bosnia di Sun è costruita da dei blocchi di concreto. Rectangular. Questo concreto è una migliore qualità di quello che possiamo fare oggi. No. 3. ORIENTATION. East, West, North, South. No. 4. INNER PASSAGEWAYS AND CHAMBERS. No. 5. UNDERGROUND TUNNELS. No. 6. WATER. We have two major rivers. No. 7. ELEMENTS OF SACRED GEOMETRY. Three major pyramids in Bosnia, Sun, Moon, Dragon, form equilateral triangle. No. 8. ASTRONOMICAL FEATURES. The shadow of the Pyramid of the Sun at the sunset covers the Moon Pyramid. No. 9. LOCATION of the Pyramid. The Bosnian Pyramid of the Sun is located above underground iron plate. Iron generates electromagnetic field. The Pyramid amplifies this electromagnetic field. Underground water stream releases negative ions. Pyramid amplifies the concentration of negative ions. And then we have another underground water stream. Between them electricity. We have a lot of quartz crystal. Quartz crystal amplifies the energy. These are all elements for Pyramid. And Bosnian pyramids fulfill those elements. And if we take into account very serious energetic activity, especially on top, this is one of the most active pyramids all over the world. As long as I know, I traveled all over the world. I know almost all pyramids. This is the most active. So, to answer your question, natural or artificial, we need to apply science. Science is on our side. The Great Pyramid of Egypt is 147 meters in height. The Bosnian Pyramid of the Sun is more than 270 meters. It is much bigger than the Keops pyramid. The majority of the pyramids in the world are covered by soil and vegetation. In Egypt and Peru desert you can see them. In China 250 pyramids covered by forest. E' vero. In Guatemala. Certo. In Ecuador. El Salvador. Belize. 95% of pyramids in the forest. E' vero. E' vero. E' vero. Io ho visto in Ecuador, per esempio, le piramidi che sono proprio sulla linea fra l'alto dell'Equatore sono ricoperte di terra. E' vero. 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 una montagna alla fine. Non c'è una piramide 300 metri high. Non c'è una piramide 300 metri high. Non c'è una piramide 300 metri high. 66 è la più grande. E è davvero grande. Non sono montagna, sono costruzioni artificiali strutture. Ma dopo mille anni l'è vento portano l'acqua e l'acqua e la vegetazione inizia. La piramide bosnia sono scoperte da l'acqua. l'instituto per pedologi analizzano l'acqua e l'acqua e l'acqua è tra 12 e 15 mille anni. C'è una struttura di sotto è molto più più grande. Tra le strutture di concreto abbiamo scoperto fossiliati l'acqua che arrivano l'acqua nel processo di construzione. Abbiamo fatto un'analisi di radiocarbono e l'acqua è che è 29.200 anni più o meno 400 anni. E questo è il dato di radiocarbono. L'acqua calibrata o il calendario è 15% più che è 34.000 anni. 34.000 anni è tanto. È tanto. Però per costruzioni di questo tipo è relativo. parliamo di 100.000 addirittura dei cerchi di pietra del Sudafrica ma non solo. Poi parliamo di altre costruzioni che a me vengono subito in mente costruzioni megalitiche di questo tipo. Per esempio le mura megalitiche. rispetto alle mura megalitiche che noi troviamo in Perù e che noi troviamo in Italia ce ne sono anche tante un po' ignorate che vengono addirittura datate romane che è impossibile perché i romani non hanno mai fatto strutture del genere poi sono strutture megalitiche poligonali. Lui che tipo di collegamento fa con quelle strutture con le strutture delle piramidi? Officially according to mainstream science our history is about 6.000 years Certo la nostra storia ma piramidi in Indonesia 26.000 years radiocarbon dating Gobekli Tepe megalitiche in Eastern Turkey 11.600 years 11.000 11.000 piramidi più di 12.000 years prima del fine dell'ultimo Ice Age Ionaguni sull'interno della terra più di 12.000 years Machu Picchu 4 civilizazioni la prima probabilmente 50.000 years soldi Stonehenge 5.000 ma è molto più più di quello quindi possiamo vedere che c'è un network di megalitiche e piramidi più 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 di quello che mainstream science diceva Certo i cittadini usavano la pietra granita vulcanica limestone che durano sempre così si può vedere l'età della pietra è l'età della pietra Stone Age che era un po' più importante di quello che si dice e queste persone nuove connexioni tra le pietre giuste geometria elementi di geometria e come amplificare le energie sono tutti amplificatori di energia la piramida è la forma più potente geometrica quando parliamo dell'energia e amplifica le source naturali di energia e le frequenze il nostro concetto è diverso abbiamo elettricità 220 volt se lo toccano ti abbiamo mobile 5 GHz 5 GHz è la frequenza di micro-waves si si gli antici erano molto smart la geometria il circolo molto potente la piramida molto potente la forma conica i tumuli sono molto smart erano più intelligenti di noi e usavano un'energia sicuramente più naturale se vogliamo sfruttando come diceva Tesla a me viene in mente sempre così c'è l'energia della terra si Nikola Tesla clean energy unlimited and free che sia libera è molto importante si e Nikola Tesla built Warden Cliff Tower in the state of New York si presenta si presenta l'energia per trasportare l'energia e l'informazione in l'universo. Mike, water, tunnels, cavities, resonanti. Tell us. You're saying my favorite, you're mentioning all my favorite words this time. So, where are we? We are in tunnels that create certain resonances. We are 50 meters below the ground. Yes. We are with water, H2O, oxygen, and hydrogen, the primordial monoatomic element. Crystalline substance around us. We have the three most abundant elements on Earth that keep us alive, that raise, elevate our consciousness, that feed us. Oxygen in the air, oxygen in the water, oxygen in the silica dioxide, and the crystalline substance. If this doesn't energize you, then I don't know what else will. We are in the apex of an energy boost here. This is why this water is so energized in here. This is why the energy from the water and the air in the tunnels drives these pyramidal structures. The first purpose of pyramid energy, communication. The second purpose, self-healing, benefits for our body. In the future. The third purpose, to improve the molecular structure of the water. The water becomes energetically alive. It vibrates very high. Number four, to improve the food. Number five, to improve our auric field, our aura. Number six, to open our chakras. Number seven, to develop our spiritual senses. We have five physical senses. We have 30 spiritual senses. We can feel the energies. We can see auric fields. We can exchange thoughts, telepathy. Number eight, when you put pyramids, like in Sicily, around the volcano, you don't have big volcanic eruptions, but series of small walls. Ah, c'è una piramide in Sicilia. There are 43 pyramids in Sicily, built from the volcanic stone. They are stepped in design. Plateau on the top. Four sides. We don't know who or why. Beh, questa è la domanda. Ma dove sono queste piramide in Sicily? Nord-est. Nord-est. Quindi vicino all'Etna. Yes. They form half a circle around Etna. Mi ha in mente Torrejerdal, che aveva verificato, aveva visto in tanti luoghi, poi lui viaggiando con le barche, insomma, viaggiando per il mondo, aveva visto diversi luoghi dove c'erano piramidi, dalle piramidi di Guimar alle Canarie, e parlava anche di una piramide in Sicilia. Io sono andata a vederne una piccola che sta nell'est, nella parte, diciamo, sud-est della Sicilia. Però queste dell'Etna non ho avuto modo di vederle, ma insomma sarebbe interessante. A Tonga, per esempio, c'è un'architrave enorme, grandissima, fatta di corallo e queste piramidi a gradoni. A Tonga, che è un'isola del Pacifico molto sperduta, quindi è una civiltà questa che ha fatto questi oggetti, queste cose megalitiche, venticinque mila, eccetera, anni fa. Che tipo di civiltà è? Ed era una civiltà comunque che viaggiava per mare? Che civiltà era? Chi era che faceva queste cose? The biggest piramidi on the planet are the oldest. What does that mean? The knowledge has been brought to us. Grazie a tutti.